Sono le 9.20 e Monterenze è quasi pronto, ci siamo quasi. Io non rischio, passi con nuovo. Io non rischio! Io non rischio! Io non rischio! Io non rischio! Buon marzo e ventino! Noi non rischiamo! Noi non rischiamo! Stamattina diciamo la giornata è andata veramente bene Tanti bambini e i ragazzi del gruppo giovane sono veramente bravi Stanno imparando veramente tanto da noi grandi Ciao siamo dell'Oppia Assistenza di Campo di Potenzio Ciao! Io non rischio! Siamo qui in piazza Mino da Piesto e siamo qui per l'evento Io non rischio Abbiamo montato il nostro depo e la nostra linea del tempo Andiamo a vedere Io non rischio e tu? La cronologia di tutti gli eventi alluvionali che sono successi sul nostro territorio Per il terremoto e per il marimoto Ok! Durante il terremoto bisogna ripararsi Questo si è riparato sotto la porta Io invece non si può stare pensando perché questo ponte si sta rompendo Questo si è riparato il nostro corso Che non si può stare lì E questo qui si è riparato con la porta E questo si è riparato da un pincone Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io non rischio 2016. Salvo il giorno a termine la prima giornata della campagna. Siamo contenti di essere sfratti del riscontro dei cittadini. Ciao! Ciao! Primo Mischio! Siamo a Quarto Sant'Erena, terza città della Sardegna per la piazza Io Non Rischio! All'Unione, se non vuoi rischiare, in piazza del popolo, venici a trovare! Anche mamma, io Non Rischio! C'è! Non Rischio! Non Rischio! Non Rischio! Non Rischio! Non Rischio! E niente, questa è stata una bella esperienza e speriamo di duplicarla anche domani! e niente credo che questa iniziativa che è molto interessante perché sensibilizza un po' tutti i cittadini e ci informa su cosa fare nel caso di alluvione visto la zona in cui viviamo e sicuramente con il libricino che poi ci viene rilasciato è un buon va-de-me, insomma se vuoi comportarsi e stare comunque più tranquilli sapendo che c'è una squadra che ci supporta e che è sempre pronta ad agire. Grazie a tutti! Io non rischio 2016, cuore al centro!